Il sindaco non è soltanto un evento sportivo, quello che ospiterà Castiglion Fiorentino, ma un evento popolare che segna in fondo la definitiva ripartenza. Il lavoro lungo e faticoso del motoclub degli ultimi mesi era opportuno e necessario farlo conoscere, anche attraverso stamani questa conferenza per spiegare e snocciolare quelli che sono i numeri di questa manifestazione, che avrà un numero altissimo di partecipanti, si parla di oltre 500 iscritti e direi anche il probabile sold out di tutte le strutture ricettive perché l'indotto che genera un'edizione di queste proporzioni fa bene anche al turismo, direi un buon segnale di ripartenza primaverile. Dal punto di vista tecnico come si presenta la gara? La domenica alle 8.30 a partire la gara è un circuito di circa 70 km con tre prove speciali. La prima prova speciale l'abbiamo voluta fare al Cipo del Meoni per ricordare Fabrizio e poi dopo si svolgerà la seconda prova speciale qui all'Anuscita a Todiolo e la terza prova speciale in zona Piedrigognano. Siamo estremamente felici di riportare lo spettacolo del motosport a Castiglione Fiorentino. Lo sport è quello che alla fine ci fa ripartire tutti i giorni, riparte qui da Castiglione Fiorentino, un paese che è abituato al grande motosport e quindi è stato un lavoro fatto in comune con tutti.